Musica Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, tantissime le notizie a partire dalla cronaca, ma affronteremo anche i temi politici e parleremo anche di sport con il club e la SPAL, ma parleremo anche di tanti eventi da qui alla prossima estate per Ferrara e Provincia, ma apriamo questa edizione con la cronaca giudiziaria assolto perché totalmente incapace di intendere, di volere quanto ha disposto il Tribunale di Ferrara per Stefano Franzolin, 47enne, che quasi due anni fa, il 22 marzo 2021, soffocò la madre Alberta Paola Sturaro di 75 anni nella loro abitazione in via della Ghiara a Ferrara e la sentenza di primo grado espressa giovedì dalla Corte d'Assise, presieduta dalla giudice Piera Tassoni con Alatere Silvia Marini. La Procura aveva chiesto 14 anni, ma lo Stato dell'imputato ha spinto la Corte a propendere per la permanenza di Franzolini in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ovvero un Rams. E ora cambiamo argomento, c'è tanta amarezza a Ferrara per l'epilogo che ha avuto il club basket, la squadra non concluderà il campionato, si è dissolta la società che non è riuscita a far fronte a una situazione economica definita insostenibile. Mercoledì il saluto dei giocatori e dello staff ai tifosi e giovedì, mettendoci la faccia, l'allenatore Spiroleca ha voluto raccontare come hanno vissuto gli ultimi difficili giorni, con lui Alessandro Sovrani ha chiesto anche di tratteggiare ipotesi per il futuro della palla spicchi e stense, che per ora è senza un club. Ho dovuto comunicare alla squadra, una roba che è mai successa in vita mia, da 30 anni che alleno, vuol dire che siamo a capolinea e con dispiacere abbiamo detto a tutti e sono venuti i tifosi a darci una mano ieri a far vedere un'altra volta la loro vicinanza, e però ecco vado via da Ferrara con tante cose belle che porto con me, insomma risultati sportivi e in quattro anni e mezzo ho costruito un percorso importante che si è interrotto per la non funzionalità della società, che peccato non è riuscito a dare una svolta nei ultimi due anni, perché Ferrara non merita di sparire dall'arta, dal basket che conta. Dipende adesso come si muoveranno a cercare di costruire una società nuova, perché almeno per me nel momento che ci troviamo storico, Ferrara una squadra in bilo deve avere, perché secondo me lì con risorse giuste si può fare, si può divertire l'agenda, che un bacino di 2000 persone non li puoi lasciare senza basket. E se la nuova società partendo dalla Serie B bussasse alla porta di Spiroleca? Guarda io già ieri qualcosina mi hanno contattato, ma sono in quella fase lì che ancora devo assorbire quello che è successo, che sono molto stanco, dico la verità, perché non devo pensare solo a cose sul campo, al mio lavoro da direttore sportivo, ma un po' a tutto, e sono arrivato un po' allogorato, negli ultimi due o tre giorni sono stati molto difficili, e devo assimilare questa situazione, ma io ho le porte aperte sempre con tutti, il mio lavoro, io di solito mi muovo per progetti, se vedo che c'è un progetto che non è anche stimolante così, perché no, nel senso che l'importante è che sono le persone giuste, dico io sempre. E ora torniamo a parlare di carcere, ancora un'aggressione ad agenti a Ferrara e quella denunciata ancora dai sindacati, questa volta la Cisle, ancora una volta il deputato ferrarese della Lega, Davide Bergamini, interviene sull'argomento urgente, un approfondimento della situazione complessiva della nostra realtà carceraria, sottolinea Bergamini, che il prossimo 10 marzo visiterà il carcere dell'Arginone insieme al sottosegretario della giustizia Andrea Ostellari e ci sarà anche il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, parteciperanno, dice il deputato, all'incontro con la dirigenza della struttura, anche l'assessore alla sicurezza del comune di Ferrara, Nicola Lodi, e il consigliere comunale e provinciale di Ferrara, Francesco Carità. E dopo il no politico al progetto Feris in consiglio comunale, con la mozione di Ferrara nostra votata all'unanimità, il tavolo delle opposizioni che unisce tutte le forze politiche contrarie al progetto sia in consiglio che fuori punta il dito contro la giunta Fabri, definendola inaffidabile, non preparata. Sentiamo il perché nel servizio. Partito Democratico, azione civica, Movimento 5 Stelle, socialisti, gruppo misto, azione di calenda, articolo 1, sinistra italiana e verdi, tutte le forze politiche di opposizione sia in consiglio comunale che fuori, attorno al tavolo istituito da settimane per dire no al progetto Feris, progetto politicamente bloccato, con la mozione di Ferrara nostra durante il consiglio del 28 febbraio, parlano ora di una grande sconfitta per la giunta del sindaco Alan Fabri, una sconfitta anche per Fratelli d'Italia con l'assessore Alessandro Balboni che con il Feris inanella il secondo errore dopo il contratto con ERA sulle tariffe della geotermia. È invece una vittoria per i cittadini che si sono mobilitati contro il progetto, per le opposizioni che si sono unite per evidenziare la contrarietà al Feris, una vittoria insomma non solo di Ferrara Nostra. In questo caso i consiglieri di Ferrara Nostra sono partiti da una posizione di forza. Perché? Il reintegro della consigliera Arqua attraverso la sentenza del Consiglio di Stato, lo devo ringraziare l'Avvocato Anselmo, il voto dell'Arqua è stato determinante. Al voto dell'Arqua tre consiglieri di Ferrara Nostra più l'Arqua, quattro consiglieri, si sono aggiunti ai consiglieri di minoranza, ai dodici consiglieri di minoranza presenti lunedì in Consiglio Comunale, quindi dodici più quattro fanno sedici, contro i quindici della maggioranza, compresi appunto il sindaco e il presidente del Consiglio, il sindaco che era rientrato appunto per votare e quindi si avrebbero andati sotto. Il no all'accordo di programma per la trasformazione in parcheggio di una zona di Viale Volano per la ristrutturazione a scopo commerciale dell'ex caserma di Cisterna del Follo e la creazione di un ipermercato in via Caldirolo, a ridosso delle mura, al momento resta ancora un no politico, spiegano al tavolo dell'opposizione. La partita non è ancora finita ed ora l'attenzione sarà sulla possibile richiesta di danni da parte dei privati che con un accordo firmato avrebbero dovuto investire in città Ferrara. Un progetto è il Ferris che secondo l'ex dirigente dei servizi della pianificazione territoriale del comune di Ferrara, oggi referente della lista azione civica, ha creato un danno alla città. Per molti anni abbiamo sottoscritto accordi fra l'amministrazione e imprenditori privati, quasi un centinaio di accordi come quello che è stato firmato a luglio dall'amministrazione Fabri. Ovviamente quando si firma un accordo bisogna prima verificare che ci siano le condizioni tecniche, politiche e di consenso della città per farlo, non bisogna dimenticare che si firma a nome della città. Quindi quell'accordo è stato firmato come se fosse un atto politico, invece si tratta di un contratto, tant'è che oggi i privati stanno valutando se chiedere i danni. Il danno la città però l'ha già avuto perché questa è una città che a questo punto ha dimostrato di avere un'amministrazione che non è in grado di gestire il rapporto fra un imprenditore che voglia venire a investire in città e i cittadini e le associazioni di Ferrara. E torneremo a sentire altre interviste. In merito su quanto accaduto al progetto Ferris interviene anche il forum Ferrara partecipata che da mesi sta battagliando sull'argomento su telestense.it trovate il commento alla vicenda ma dicono dal forum il lavoro continua, diversi incontri in programma, riflessioni e proposte per la città. Il primo di una serie che concluderà il 10 maggio sarà invece il 10 di marzo prossimo a Factory Grisù a partire dalle ore 17 come vedete da questo programma. E ora passiamo e torniamo alla cronaca a violazioni delle norme sulla sicurezza in un cantiere di un palazzo in fase di ristrutturazione sulla costa comacchiese e un lavoratore senza permesso di soggiorno poi denunciato e quanto hanno scoperto martedì scorso i carabinieri di Comacchio e del nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara i titolari di tutte e cinque le ditte in subappalto con sedi legali sia nella città estense ma anche a Brescia, Milano e Napoli sono stati denunciati e dovranno pagare multe per più di 14 mila euro. E adesso cambiamo totalmente argomento e parliamo di musica e di Ed Sherry storico chitarrista dei Dizzi Gillespie che torna a Ferrara dopo 33 anni e l'artista sarà ospite della rassegna Tutte le direzioni 2023 sabato il 4 di marzo all'ospedita di Vigarano Mainarda. Ce ne ha parlato il direttore artistico Alessandro Mistri in questa che si preannuncia una delle serate più intense del gruppo dei dieci. Sentiamo. Gruppo dei dieci appuntamento sabato 11 marzo ancora una data ancora una serata per amanti di jazz e non solo. Sì torniamo come sempre torniamo anche su questi vostri teleschermi grazie anzi per questa ospitalità che ci date che ci permette di far conoscere quello che per noi è il significato di tutta l'operazione che è dietro al gruppo dei dieci cioè far conoscere la musica far conoscere la musica che spesso direi ormai sempre non si sente da altre parti per cui un modo diverso conviviale di vivere. Devo dire che questa volta purtroppo la convivialità è particolarmente sentita perché questo concerto che naturalmente era già programmato da tempo si abbina a un ricordo di un amico che è scomparso pochissimi giorni fa che era uno dei fondatori proprio del gruppo dei dieci per cui vorrei ricordarlo anche qua Adelino Bianchini un carissimo amico che è una persona che ha dato molto e che ha fatto nascere il gruppo appunto 13 anni fa. Detto ciò torniamo al concerto di quello che sarà sabato, un concerto molto bello che aveva pensato sin dall'inizio perché torna Ed Cherry, grandissimo chitarrista, chitarrista soprattutto che è diventato famoso per la sua presenza nel gruppo di Dizzy Gillespie. La prima volta che ho conosciuto Ed personalmente è stato proprio col quartetto di Dizzy Gillespie fatto l'Ok Village per cui come vedete si vive spesso di ricordi inevitabilmente anche della nostra città perché certe cose magnifiche fatte a suo tempo non esistono più. Parliamo dell'inizio degli anni Ottanta poi è tornato ancora. L'ultima volta però che l'ho visto in una cosa organizzata fra l'altro proprio dal Jazz Club in quel periodo quando io che curavo un po' la programmazione è stato al Teatro Comunale qua di Ferrara con la bellissima orchestra della United Nations Orchestra di Dizzy Gillespie dove lui appunto era il chitarrista. Adesso viene una formazione perfetta perché non perché non ci sia la batteria perché altrimenti Elda direbbe di tutti i colori ma semplicemente in questo caso veramente drumless perché ci sarà al contrabbasso Nicola Barbone e al pianoforte Massimo Farahò che è un habitué dei nostri concerti perché è un grandissimo pianista che ha due cose fondamentali per il jazz, il senso del blues e il grande swing e con Ed Cherry senz'altro verrà fuori una serata magnifica. Ancora musica, altro nome per il Ferrara Summer Festival, stanno uscendo in questi giorni tutti gli artisti che caratterizzeranno la rassegna in piazza Trento Trieste. Questa estate si tratta come vedete a questa immagine di Biagio Antonacci, nono nome del Summer Festival. si esibirà venerdì 30 giugno a Ferrara. E ora parliamo di libri, di un viaggio lungo itinerari poco battuti per assaporare le migliori tagliatelle al ragù della regione di cui restano il piatto tradizionale per antonomasia. Si intitola Ode alla tagliatella, guida le buone tagliatelle al ragù in cento luoghi delle miglia Romagna. Il libro edito da Minerva Edizioni, scritto da Andrea Veronese, architetto, cultore di paesaggi, viaggiatore e intenditore di gastronomia. In questo caso il volume dal primo marzo è nelle librerie e sarà presentato il 16 marzo al libraccio dallo scrittore Roberto Pazzi che ne ha fatto la prefazione. Ma sentiamo l'autore Andrea Veronese, intervistato da Daglia Bighinati per la rubrica Tu per Tu, che andrà in onda domenica su Telestense. Da dove nasce questo libro? Cominciamo da questa domanda. Forse è un libro di memorie o di viaggio, più che di cucina, perché mi è venuta l'idea di raccogliere i miei ricordi di scorribande fatte in auto, in moto, con gli amici, da solo in treno qualche volta. La meta era molto spesso un ristorante e quasi sempre c'era il piatto di Tagliatella Dragun, perché mi piacciono da maldi. Tagliatella trovo che è davvero un emblema, un'icona della nostra regione. È vero che ci sono in tante altre parti d'Italia, ma buone come in Emilia Romagna, non ce n'è. Appuntamento quindi domenica con l'intervista a Tu per Tu, mentre giovedì prende il via il primo appuntamento con il talk show Detto Tra Noi in onda alle 21.30 su Telestense. Il venerdì alle 21 su Tele Santerno, ospiti della puntata saranno il cantante Marco Felix della storica band Ferraresi Giullari e Chiara Marzola. Vivaista ed esponente di Coldiretti Ferrara in apertura interverrà Valeria Borasio, presidente dell'Associazione Culturale Baldanza, che celebra vent'anni di attività. Ne sentiamo l'introduzione. Perché nasce Baldanza? Eh, nasce, nasce. Come nascono spesso le cose? Per caso, per passione, per incontri belli, incontri interessanti. In questo modo è nata. Da interessi di qualcuno per la musica antica e la danza antica, tra l'altro nata e sviluppatasi a Ferrara, alla cortestense. E poi da dialoghi interni di come, questo era l'obiettivo dei primi volontari, e io ero una di queste insieme a tanti altri, l'obiettivo era di avvicinarsi il più possibile alle persone con un linguaggio comprensibile, cioè far appassionare la città di Ferrara e di più anche, la nostra intenzione era, della musica antica e della danza antica. Ancora appuntamenti. Venerdì 3 marzo torna il quarto evento dei Venerdì dell'Universo. si parlerà di radionuclidi e radiofarmaci e il loro uso in medicina nucleare a condurre il pubblico nell'esplorazione di questo tema. Sarà Gaia Pupillo, ricercatrice dei laboratori nazionali di Legnaro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal 2019. L'appuntamento è alle ore 21 nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza. E ora parliamo di sport, di SPAL. Il presidente Tacopina, mercoledì sera dopo la sconfitta per 2-0 contro il Frosinone, è intervenuto sull'esonero del direttore Lupo nei giorni scorsi, un'azione che aveva provocato subbuglio nel mondo bianco-azzurro. Ecco allora le motivazioni che hanno spinto Tacopina a prendere questa decisione. Fabio è stato, si è arrivati a questa decisione, meglio sono arrivato a questa decisione perché nella mia opinione Fabio ha compiuto degli errori comportamentali, della mancata assunzione di alcune responsabilità e una serie di errori. Questo è quello che voglio chiarire, non ho voluto indire una conferenza stampa apposita per parlarne, ma ho lasciato passare i giorni pre-partita perché era giusto così. Adesso però abbiamo giocato la partita, voglio chiarire questa cosa. La decisione di esonerare Fabio Lupo è derivata da una serie di precisi errori che io ritengo lui abbia commesso durante tutta la stagione e non è certo arrivata per un delle incompressioni linguistiche. Sono stati fatti degli errori, io non voglio entrare troppo nei dettagli perché non lo reputo elegante, non lo reputo appropriato, però voglio chiarire questa cosa. Per quanto riguarda la guida, la direzione sportiva, questa non è cambiata, il nostro elettore sportivo era Armando Ortoli, dopo l'esonero di Fabio Lupo io ho parlato con lui e gli ho chiesto di assumersi questa responsabilità perché ritengo che sia la persona adatta per portare avanti questa responsabilità e lui ha accettato con molto entusiasmo, con molta carica perché lui conosce questa squadra, crede in questa squadra e la stessa squadra gli ha chiesto di accettare questa proposta, di continuare a credere in questo progetto così come ha fatto il mister. Quindi Armando Ortoli è il nostro elettore sportivo e ha la mia piena fiducia. Parliamo adesso di calcio giocato, Spal che ora si trova in ultima posizione in classifica dopo la sconfitta con la capolista di mercoledì, arrabbiato per il risultato ma soddisfatto della prestazione l'allenatore biancozzurro Massimo Oddo, sentiamolo. Oggi non meritavamo di guardare, però i complimenti vanno al Fosinone perché la differenza fra una squadra che è prima e una che è ultima è come ho sempre detto la lucidità della gestione dei momenti della gara, si vede che è una squadra sicuramente un'ottima squadra, non a caso è lì davanti con tanti punti di vantaggio, è stata bravissima a gestire le tante difficoltà che ha avuto oggi, sono molto fiducioso perché è quello che volevo dai ragazzi, una certa solidità che abbiamo avuto come quella di Genova e con qualche soluzione in più qualitativa, tecnica, più coraggio nel giocare, lo abbiamo fatto, non benissimo ma bene, viste le circostanze perché non è semplice, capisco, io ho giocato a calcio e lo so che in questi momenti non è semplice ma la squadra ha fatto quello che doveva fare. Giovedì sera su Telestense torna alle ore 20 il filo d'Arianna con uno speciale dedicato al CERD, il servizio di pendenze patologiche in cui viene lanciato tra le altre cose anche l'allarme adolescenti riguardo a queste dipendenze d'alcol ma non solo con questo appuntamento televisivo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.